Ciao, mi chiamo Erika Pozio e sono una studentessa di Mary Lewis. Ora sto per intervistare mia cugina Noemi Lobue. Lei è venuta per la vacanza di Natale. I miei nonni la stanno ospitando al caso loro in questi giorni. Ne approfitto per farle qualche domanda sulla sua vita e sulla sua permanenza nella città. Ciao, puoi presentarti per favore? Ciao, mi chiamo Noemi e vengo da Milano. Dove sei nata? Sono nata a Palermo. Quanti anni hai? Ho 26 anni. Cosa fai nella vita? Sono una project e una location manager. Puoi raccontarmi meglio il tuo lavoro? Certo, lavoro nel mondo degli eventi. Gestisco i progetti e le location per eventi di moda, convention, shooting fotografici e riprese cinematografiche. Ma che interessante! Fai queste cose a Milano? Sì, mi sono trasferita a Milano due anni fa. Dove hai studiato? Ho studiato all'Università di Torino e poi ho fatto un master a Milano dove ho trovato questo lavoro. Cosa ci fai qui? Sono venuta a New York per le vacanze di Natale per trovare la mia famiglia. Per quanto tempo ti fermi in America? Sono arrivata mercoledì e ripartirò lunedì prossimo. Va bene. Raccontaci un po' della tua permanenza qui. Cosa ti è piaciuto fare e cosa ti ha sorpreso? Con piacere. Mi sto molto divertendo in questi giorni. Oggi, ad esempio, sono andata a vedere la partita dei Knicks e non vedevo l'ora di farlo. Gli Stati Uniti sono un posto fantastico perché arriva dall'Italia. C'era tanta gente alla partita? Oh sì, lo stadio era colmo. Ha bellissima atmosfera. Dove era la partita? A Madison Square Garden. Ho sempre voluto vedere quel posto. Che altro hai fatto? Tantissime cose. Ad esempio, ieri siamo andati a visitare il Museo Metropolitan. E l'altro ieri, invece, siamo andati a Radio City a vedere lo spettacolo di Natale. È stato molto emozionante. Ottimo. Con chi sei andata? Sono andata con i miei genitori, che sono qui anche loro, con mia cugina Alexis e suo padre. Anche i tuoi genitori vivono a Milano? No, loro vivono a Palermo, in Sicilia. Com'è stato il volo? Fantastico. Ho guardato quattro film di seguito. Bene. Quali film hai guardato e in quale lingua? Ho guardato Love Actually è Four Christmases in inglese e Paper Town è Ricky and the Flash in spagnolo. Ah, parli lo spagnolo? E dove lo hai imparato? Sì, ho vissuto per un anno in Spagna. L'ho imparato all'università. Parlami della tua migliore amica. Di dove è? Di Milano o di Palermo? Ah, certo. La mia migliore amica si chiama Valentina e lei viene da Riccione, una città del centro Italia. Ma anche lei vive a Milano e lavora insieme a me. Perché lei non è venuta con te qui? Lei non è venuta con me ai miei genitori perché sta programmando il suo viaggio con il suo fidanzato. Oh, che peccato. Hai comprato qualcosa? Oh sì, oggi alla partita dei Knicks ho comprato una giacca della squadra, ma penso che farò compiere anche domani. Ti piace il cibo qui? Cosa ti è piaciuto di più? Sì, mi piace tantissimo. Una delle cose che sto amando di più è la colazione. Non avevo mai mangiato così bene a colazione prima d'ora. Che cosa hai mangiato per colazione? Mio zio ogni mattina cucina per noi. Lui cucina le uova con formaggio, prosciutto, toast, cornetti. Una cosa che mi piace molto è anche il caffè qui. Strano per un'italiana? Sono molto contenta. Hai incontrato difficoltà con la lingua inglese in questi giorni? Beh, all'inizio è stato difficile, i primi momenti. Poi mi sono abituata e anche l'ascolto è diventato più facile. Per quanti anni hai studiato inglese? Ho iniziato a studiare l'inglese quando avevo 7 anni fino a 18. Purtroppo poi ho smesso perché il mio percorso di studi all'università non prevedeva esami di lingua inglese, ma voglio approfondire ancora di più nei prossimi anni. Fantastico! Sei una ragazza con ambizione. Sì, so che la lingua inglese serva moltissimo nel mondo del lavoro e nella vita. Sarebbe molto bello se lo facessi. Pensi che ritornai presto? Oh sì, sarà la prima cosa che farò quando sarò libera dal lavoro. Questa cosa mi fa molto felice. Noti molte differenze tra Milano e New York. Allora, le abitudini sono molto simili. Anche a Milano si lavora tanto e si corre moltissimo. Anche a Milano è molto affollata, ma New York è così stimolante per me. Ci vivresti? Sì, mi trasferirei anche domani. E in quale parte della città andresti a vivere? Sicuramente mi piacerebbe vivere nella Percetide, ma devo dire che anche nel Middle Village sarei molto felice. Oh sì, ti piacerebbe. Grazie per la tua testimonianza. Prego. Ok. Fare questa intervista a mia cugina è stato molto utile e divertente. Ho appreso qualcosa sulla sua vita di tutti i giorni e le sue abitudini in un'altra città e in un altro continente. Sapere che un'italiana apprezza così tanto New York e le nostre attrazioni è molto stimolante e mi fa sentire fortunata di vivere in questa città. Grazie. 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 Grazie.